La dinamica della Rissa, avvenuta a martedì 30 luglio, nella zona dell'ex stazione ferroviaria di Civilare del Friuli, è oggetto di accertamenti tuttora in corso. Intanto sono stati denunciati in stato di libertà per Rissa sei minori stranieri che alloggiano nel collegio anesso al centro di formazione professionale Civiform di Rubignacco e otto ragazzi tra i 18 e i 26 anni, residenti nelle valli del Natisone, Butrio e Udine, molto probabilmente arrivati nella città ducale per regolare i conti. Nella giornata di venerdì 2 agosto, tavolo dell'Ordine Sicurezza Pubblica in Prefettura Udine, presenti il sindaco di Cividale, Daniela Bernardi, il prefetto Domenico Lioni, i responsabili delle forze dell'Ordine e i gestori di Casa dell'Immacolata e del Civiform, dove è emerso che bisogna rafforzare i contatti, comunque già stretti, tra i centri di accoglienza per minori stranieri non accompagnati e le forze dell'Ordine.